Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi della nuova maglia home della SS Lazio per la stagione 2024-2025 Più tardi, verso la fine del video, parleremo anche di Castellanos D.A. perché ci sono delle novità last minute, ok? Ma prima parliamo delle maglie, sono uscite anche quelle d'allenamento che non mi convincono particolarmente Mi piacevano molto di più quelle della passata stagione In effetti io volevo prendermene una, volevo comprarmene una ma dovevo sceglierne una tra le diverse tipologie e prenderla a 60 euro Alla fine non mi sono mai deciso, non mi sono mai deciso e quindi non me la sono presa Proprio perché c'era da decidere tra tante tipologie diverse che però mi piacevano tutte quante Quindi ecco, quelle di questa stagione non mi convincono particolarmente, soprattutto quella principale Che dovrebbe essere la maglia pre-gara, dell'allenamento pre-gara con tutti quei colori Non mi fa impazzire, ecco, la maglia home è molto bella La maglia home è molto bella, molto particolare, diversa La Mizzuno in questi anni ha preso molto spunto dalle maglie vecchie, dalle maglie retro Quindi ha preso molto spunto dal passato Questa qui ricorda la collezione Umbro, se non sbaglio, della stagione 1993-1994 Infatti dà molto quei vibes della Lazio di Zoff con Signori Ed è una maglia molto riuscita, se posso essere onesto A me piace, a me piace Mi piacciono i dettagli con quel blu scuro sul colletto e sulle maniche Se non ricordo male, adesso non ho la foto qui davanti, non voglio dire cavolate Mi piacciono molto le rifiniture Alcuni si sono lamentati della scritta Lazio al rovescio, capovolta Che poi è stata anche motivo di... vabbè Ha fatto partire i soliti commenti degli idioti sulla scritta capovolta Però a me non dispiace perché alla fine se andiamo a vedere è una scelta grafica È una scelta grafica, è una scelta stilistica che ci può stare Ok? Ci può stare, quindi non voglio mettere il dito su quello La maglia è molto bella, mi piace molto anche la tonalità del celeste Che secondo me è diversa rispetto a quella degli ultimi due anni Non l'ho vista dal vivo, sarebbe da vedere dal vivo, da valutare dal vivo L'ho vista soltanto in foto Però mi piace Parlando del kit completo c'è il classico pantaloncino all white, total white Con un piccolissimo dettaglio quasi impercettibile blu scuro E lì forse avrei provato a fare qualche cosa di più Perché alla fine è il solito pantaloncino bianco degli ultimi anni Avrei provato magari a... avrei utilizzato quel blu scuro per qualche piccolo dettaglio in più Ma questa è una mia cosa soggettiva Ok? Per il resto credo che sia una maglia assolutamente riuscita E che riscuoterà molto successo Nonostante, e qui arriva il discorso importante da fare Nonostante il comunicato congiunto Nonostante quello che è stato scritto nel comunicato congiunto della tifoseria E nonostante le linee guida dei tifosi Che hanno dichiarato di non voler acquistare la merce ufficiale E quindi anche le maglie Molti tifosi non acquisteranno la maglia Nonostante la sua bellezza Proprio come forma di protesta Come forma di contestazione Nei confronti della società E quindi la domanda sorge spontanea Giovanni, dato che a te piace tanto questa maglia Te la andrai a comprare Oppure seguirai le linee guida Tracciate nel comunicato congiunto Io più che altro non ne faccio un discorso di contestazione vera e propria La verità è che ormai comprare la maglia della Lazio È diventata una spesa molto esosa Regà, costa 100 euro Soltanto la maglia Il kit completo costa ancora di più La sola maglia costa 100 euro Costa 98 euro È una spesa importante Io quest'ultimo anno ho speso tanto Per la Lazio Soprattutto per seguirla da vicino L'abbonamento allo stadio Le partite di Champions Le partite di Champions in trasferta Soprattutto quelle Le trasferte di campionato Ho speso veramente tanti soldi E spesso e volentieri Questo mio amore incondizionato Non è stato ripagato Dalla Lazio Addirittura adesso Si è scelto per questo ridimensionamento totale Che ridimensiona le aspettative e le ambizioni Della SS Lazio e di noi tifosi Quindi la domanda sorge spontanea Cioè perché devo spendere 100 euro Per comprare una maglia Che per quanto sia bella Per quanto sia ben riuscita Sarà la maglia di una stagione Che rischia di essere Che rischia di essere Senza traguardi Senza successi Senza ambizioni Questa è la domanda Che sorge spontanea Capito? E io faccio Io faccio questo tipo di discorso Cioè voglio fare questo tipo di discorso Non voglio seguire Tanto il comunicato Quanto quelli che sono Le mie sensazioni personali Sulla stagione che sta per cominciare Capito? Un conto è Comprarsi La maglia Della stagione 2019-2020 In cui tu comunque Hai lottato per lo scudetto La maglia del gol di Caicedo a Cagliari La maglia con cui hai giocato la Champions Un conto invece è Spendere 100 euro per una maglia Che potrebbe ricordarti Un ridimensionamento Che poi è il ridimensionamento Che è stato scelto È la direzione che ha scelto Che ha scelto la società E che voi sapete Che non condivido particolarmente Ecco Quindi Quindi questa È una decisione Che prenderò Che prenderò più avanti Sicuramente c'è curiosità Anche per quanto riguarda Le altre due maglie Ok? Perché la Mezzuno Ha fatto delle ottime terze maglie Negli ultimi anni Terze maglie Quindi le maglie chiare Quelle bianche Mi sono piaciute molto E Chiudendo questa piccola parentesi Piccola parentesi Ne abbiamo parlato per quasi sette minuti Capitolo Castellanos ed A Perché sembra che il Girona Si presenterà la Lazio Con un'offerta ufficiale Da 15 milioni più bonus Per Castellanos La Lazio potrebbe quindi Pensare di cedere Castellanos Dopo un anno E Investire quei soldi Per prendere D.A Voi lo sapete A me D.A Fa impazzire Ragazzi E io ne parlo sempre Anche su Gias Lazio Seguiteci su Gias Lazio Su Twitch Cliccando sul primo link In descrizione A me D.A piace Per me D.A È l'attaccante Che potrebbe fare al caso della Lazio Attaccante di 27 anni Che Ha giocato addirittura Un'intera Champions Con il Villareal Ha fatto molto bene Alla Salernitana Ha fatto molto bene In Francia Nazionale Senegalese E ha 27 anni Cioè è nel pieno Della sua maturazione calcistica Quindi per me D.A In rottura Tra l'altro con la Salernitana Club che è retrocesso in B Cioè è proprio Il profilo ideale Per la S.S. Lazio E Castellanos Quest'anno non ha convinto Ok Non ha convinto Quindi io Castellanos A 18 milioni Lo darei via Come ho fatto anche nel video Nel video sul mercato Che farei Per Baroni Ho fatto la stessa identica cosa Via Castellanos Prendo D.A E sinceramente Spero che la Lazio Lo faccia Spero che la Lazio Lo faccia Perché per me Rappresenterebbe Un upgrade Lì davanti E la Lazio Ha bisogno di attaccanti Che facciano gol E D.A È uno Che fa gol Ok È discorso Proprio riassunto In un minuto e mezzo Ditemi che cosa ne pensate Mettete un like Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se per caso Non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo successivamente Ciao ragazzi Forza Lazio